ciao e benvenuto alla voyager cup di oggi lunedì inizio settimana quindi so che è un po dura però vediamo vediamo di parlare di cose belle allora parliamo di vaccinazioni io dico belle nel senso che meno male ci sono però vabbè l'ago è sempre un po un terrore per qualcuno allora la vaccinazione è la formula esatta per aprire il mondo dei viaggi internazionali rimasti chiusi per troppo tempo l'ho annunciato forward cake è una piattaforma internazionale di analisi del turismo ma ha fatto uno studio l'analisi infatti ha evidenziato che se si annuncia di mettere in sicurezza un luogo tipo un'isola o uno stato praticamente le prenotazioni per quello stato aumentano esponenzialmente per esempio la grecia che per prima ha aperto la strada per naturalmente cercare di vaccinare tutti gli abitanti di determinate isole e fare delle isole covid free aprendola ai visitatori vaccinati oppure quelli guariti da covid oppure quelli con tampone negativo è stata premiata da prenotazioni in questo momento da stati uniti e regno unito che corrono corrono tantissimo è già la meta nella mente dei britannici la grecia per il 2021 poi è cosa ha fatto il sistema di questa piattaforma analizzato anche una serie di dati è scoperto che ci sono dieci città una top ten di città che sono molto molto interessanti da questo punto di vista ma quali sono non ce n'è neanche una italiana purtroppo sono quasi tutte nel mediterraneo ma l'italiano non c'è nulla ad oggi allora per esempio le prime la prima isola che in testa ai viaggiatori britannici è naturalmente mykonos poi dopo abbiamo altre isole come per esempio ibiza quindi c'è anche voglia di fare movimento evidentemente poi c'è cania c'è tira c'è kerchiria c'è poi salonico palma di maggiorca eraclion quindi creta atene e faro che invece in portogallo non ci sono isole italiane ad oggi ma diciamo che procida essendo già covid free comincerà a rilavorare e si sta cercando di proprio vaccinare tutte le popolazioni dell'isola per rendere queste isole molto belle molto sicure tranquille il tasso di vaccinazione è determinante per l'outgoing ovvero la possibilità di andare a visitare un altro paese perché i viaggiatori acquisiscono fiducia poi con misura di sicurezza complete test e anche aumento delle vaccinazioni è una dimostrazione che la ripresa parte ma lo abbiamo sempre detto nel corso delle nostre voyager cap da sempre intanto stanotte sono state aperte le vaccinazioni per quanto riguarda la regione lombardia e per tutti gli over 50 e parliamo ora invece di bandiere blu per esempio sono 15 le new entry delle bandiere blu 2021 vediamo un po quali sono in abruzzo franca villa al mare pescara e martin sicuro in calabria diamante e santa maria del cedro in lazio fondi e minturno in campania camerota nelle marche altidona in puglia bisceglie monopoli e nardò in sardegna abbiamo aligento e in sicilia rocca lumera e modica per quanto riguarda i porti turistici anche questi sono bandiere blu come per esempio quello in basilicata marina di policoro in frio di venezia giulia al porticciolo marina in liguria al porto di bordigheira in puglia al porto turistico del marina resort di bisceglie a prodi a poi in sicilia a capodorlando anche alla marina di capodorlando infine in veneto al marina resort di porto braseghe questo per quanto riguarda le nuove bandiere blu attenzione solo le nuove e parliamo di bonus vacanza prima di concludere viaggia verso la proroga non ci sono ancora i dati ufficiali ma sembra che sarà prorogata per quest'anno ma non sarà il bonus vacanza nuovo sarà il vecchio per chi l'aveva già richiesto che potrà riutilizzarlo quest'anno per andare in vacanza vedremo se poi avrà successo che ha avuto l'anno scorso ovvero successo minimo per quello però vabbè è una cosa in più che arriva e magari da una mano sapete un pochettino in più una goccia di qua una goccia di là si cerca di riempire naturalmente la tazza e ora non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di settimana però annunciandovi che dalla prossima settimana avremo un appuntamento completamente differente anche nella frequenza si chiama gocce di smeralda e si vi accompagnerò a borde di una nave da crociera l'ultima di naturalmente la costa smeralda e vi racconterò tutti i segreti di questa nave ma non solo attraverso il canale youtube ma anche attraverso facebook instagram twitter insomma una settimana insieme con dirette con immagini con fotografie con pezzi ad hoc durante appunto questa crociera che ci porterà nel mediterraneo centrale a toccare la sardegna a toccare il lazio a toccare la sicilia a toccare la campania e anche a toccare la toscana insomma vi farò un po di immagini un po di racconti un po di tutto ma vi racconterò anche come si prepara una crociera nel corso di questa settimana appunto con gocce di smeralda quindi avremo questa diciamo questo intermezzo per farvi sognare un pochettino per farvi vedere un po il mare perché anche io ho bisogno del mare per me sarà lavoro e per voi naturalmente informazione in generale non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di settimana quindi ci risentiamo nei prossimi appuntamenti e naturalmente un buon lunedì con la Voyager Cup ciao